Sacro cuore di Gesù, abbi misericordia di noi. Preghiamo il sacro cuore per i moribondi. Migliaia di anime passano ogni giorno da questo mondo all'eternità. Di conseguenza migliaia di persone sono in ogni ora in dolorosa agonia. Che cos'è l'agonia? Sono gli ultimi momenti concessi a quell'anima prima di presentarsi al tribunale. Sono gli ultimi combattimenti tra la grazia di Dio e la suggestione del diavolo, in quel cuore che entrambi si sono contesi per tutta la vita. Sono momenti preziosi dai quali può derivare un'eternità felice oppure un'eternità sventurata. Man mano che al corpo vengono meno le forze, manca al petto il respiro, agli occhi la luce, il calore e il movimento alle membra. L'anima si avvicina a quella regione da cui non si torna più indietro. Questo è agonizzare, questo è morire. E migliaia di nostri fratelli stanno ogni giorno, proprio ora, in questo preciso momento, in questo stato di passaggio così angosciante. Preghiamo per loro il sacro cuore di Gesù, oggi e ogni giorno. O cuore divino, che agonizzassi nell'orto e sul calvario, sii luce e conforto di questi nostri fratelli nella loro dolorosa agonia. Guarda con benevolenza queste anime private di ogni umano conforto e che, in bilico, il cielo che desiderano e l'inferno che temono, poste tra il tempo che sfugge loro e l'eternità che gli viene incontro, non hanno nessuno a cui rivolgersi se non a te. Cuore agonizzante del nostro divino Salvatore, sii tu il balsamo cordiale per questi nostri fratelli in situazione straziante. Un giorno saremo noi a trovarci in agonia. Ciò a cui varie volte abbiamo assistito negli altri toccherà a noi e in noi vi assisteranno gli amici rattristati. Diranno che è arrivata la fine per noi, l'ora di abbandonare questo mondo al quale abbiamo dato, forse eccessivamente, il nostro povero cuore. Cuore di Gesù, quando tutto mi mancherà, tutto mi sfuggerà e tutto mi abbandonerà, tu non mi lascerai. O dolce amico mio, da te aspetto la miglior consolazione che rafforzerà il mio spirito dolorante e calmerà la sua agitazione e inquietudine. Da te attendo, attraverso i Santi Sacramenti, l'ultimo abbraccio di pace e riconciliazione. Ma intanto, migliaia di nostri fratelli si trovano ogni giorno in queste angustie e ti supplico di soccorrerli. Mentre mangio, riposo, lavoro, prego o mi diverto, queste anime sono in attesa del loro destino eterno in questa ultima battaglia decisiva. O caro cuore di Gesù, per quelle tre amarissime ore in cui sul letto della croce il cielo e la terra ti videro agonizzante e moribondo, soccorri i figli del tuo cuore in questo passaggio critico. Misericordia di Dio, confido in te.